Siamo a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, dove dal 9 ottobre sarà inaugurata la mostra dedicata ai 30 anni della Disney Pixar. Dal logo qui dietro di me, creato da John Lasseter agli inizi, si arriva agli ultimi film di animazione, come Coco e gli Incredibili 2. Nel Palazzo delle Esposizioni il percorso prevede l'esposizione di 400 memorabilia dedicati al mondo della Disney Pixar. Da statue a bozzetti a storyboard si può vedere il processo creativo della Pixar, dalla bozza della storia alla sceneggiatura fino ai momenti finali dell'animazione. Rispetto alla mostra vista a Parigi in occasione dei 25 anni qualche anno fa, sono stati aggiunti proprio memorabilia dagli ultimi film di Pixar Cinema, come Coco e gli Incredibili 2 e Inside Out. Nel corso della mostra si potranno vedere anche due attrazioni animate, uno è un diorama creato dallo studio Ghibli come segno di amicizia verso la casa di animazione americana e inoltre un cortometraggio di animazione in cui vengono percorsi in modo suggestivo tutti questi 30 anni di animazione. L'appuntamento è dunque dal 9 ottobre al Palazzo delle Esposizioni di Roma.